Buongiorno, nuovamente buongiorno per chi ci sta continuando a seguire con il nostro tempo reale speciale elezioni. Oggi tra l'altro bissiamo a fianco a me Maurizio Ceccarini. Buongiorno, siamo al nostro appuntamento dedicato ai candidati. Ne abbiamo due oggi, partiamo dal candidato per il Centro Democratico Elena Torri, quarta alla Camera in Emilia Romagna. Intanto benvenuta. Buongiorno, grazie. E grazie di aver accolto il nostro invito Elena. Tra l'altro ricordiamolo, credo che sia importante, lo dicevamo poco prima di iniziare, sì quarta alla Camera ma in realtà con tre capolista in qualche modo che sono di carattere nazionale. Per cui insomma sul territorio emiliano romagnolo il suo nome è anche il primo. È vero, è vero. È una bellissima opportunità che ho avuto da Centro Democratico a rappresentare l'Emilia Romagna in questa competizione. Quindi ce la mettiamo tutto perché avere un rappresentante nelle istituzioni in Parlamento su questo movimento dell'Emilia Romagna sarebbe veramente una bellissima cosa. Ecco, veniamo proprio all'esperienza di Centro Democratico. Una realtà nuova che comunque è apparentata, ricordiamolo, con il centrosinistra e quindi corre in coalizione. Questo anche aiuta nei temi dello sbarramento, insomma lo sappiamo, lo abbiamo detto più volte. Però ecco però una realtà che ha un suo specifico, l'esperienza di Bruno Tabacci, quella di Donadi dell'ex IDV, insomma diciamo così. Ci racconta un po' anche e soprattutto quali sono le vostre priorità che vorreste portare anche all'attenzione di un futuro governo di centrosinistra. Certo, assolutamente sì. Innanzitutto sì, è vero questa cosa. Siamo all'interno della coalizione di centrosinistra, abbiamo l'ambizione di rappresentare il centro della coalizione, quel centro che ha scelto prima dell'esito delle elezioni da che parte stare, quindi ha deciso fin da subito che il nostro paese dovrà essere governato da una forza di centrosinistra e si è schierato. Tante priorità. Ciò che noi sappiamo è che questo paese va completamente riformato. Queste elezioni dovranno dare una maggioranza in grado di fare delle grandi, grandi, grandi riforme, perché differentemente non partiremo. Quindi abbiamo mille idee, abbiamo un programma molto forte, che fra l'altro consiglio agli ascoltatori, chi ha passione politica, chi vuole capire, chi vuole sapere esattamente quella che è la nostra proposta di andare a vedere sul nostro sito del Centro Democratico, perché secondo me comunque capire quello che è il pensiero di un partito, di un movimento, gli obiettivi, è comunque fondamentale prima di dare e dedicare il proprio voto. Comunque tante riforme a partire, secondo me con una grossissima importanza, da una riforma fiscale, che è fondamentale per ridare equilibrio a tutto quello che è la nostra società. Oggi abbiamo un sistema fiscale assolutamente squilibrato, che sta colpendo soprattutto i deboli, a vantaggio dei forti, e quindi bisogna fare una riflessione molto importante su questo tema. E da lì tutte le altre, insomma, quindi tante riforme, il nostro obiettivo sono le riforme. Ecco, tornando alla storia personale, una storia relativamente giovane, comunque c'è già un risultato a livello del suo comune. Sì, sì, assolutamente. Mi piace ricordare questa cosa perché ho cominciato a fare politica proprio con l'onorevole Bruno Tabacci quattro anni fa, quando costituì la Rosa Bianca, un movimento centrista, formato appunto dall'onorevole Tabacci, uscendo dall'Udc, quando ancora l'Udc era coalizzata con Silvio Berlusconi. E lì ho conosciuto questo movimento tramite un sito internet, ho cominciato a partecipare, mi sono appassionata di politica. Prima non faceva politica. Assolutamente, lavoravo come una pazza, facevo la mamma impegnatissima, tuttora continuo a lavorare come una pazza e faccio la mamma, però ho capito che per i miei figli c'era bisogno di qualcosa di più, che non fosse soltanto proteggerli all'interno delle mura di casa, che è sicuramente una cosa molto piacevole e dà anche gratificazione tante volte, ma era molto importante anche prendersi cura di quello che era fuori per garantirgli un futuro migliore, perché proteggerli per poi mandarli allo sbando in una società incontrollata probabilmente non è così responsabile. Una passione che probabilmente anche gli elettori del suo comune hanno colto, perché lei ha corso per il Consiglio Comunale, insomma con un buon risultato. Ricordiamo qual è il comune anche... Sì, io sono consigliere comunale nel più piccolo comune della provincia di Il Bologna, che è Lizzanni Belvedere, il comune del Cornale Scale dove si scia, sono un consigliere comunale di minoranza, ma un consigliere comunale molto combattivo e amante del proprio territorio, quindi sono conosciuta e penso anche amata e lo vedremo nell'esito di queste elezioni, se in qualche modo verrà riconosciuto il mio impegno. Per andare poi nello specifico dei temi, forse ci lega un po' anche come territorio riminese, quello dell'appennino bolognese, il fatto che comunque c'è il turismo come voce importante dell'economia. Quali sono le vostre strategie per il rilancio in questo momento? Assolutamente il turismo, il turismo distanziamento, il turismo culturale, il turismo per noi sono uno dei punti fondamentali, cioè dobbiamo rilanciarlo a tutti gli effetti cercando, grazie a ciò che prima dicevo, anche a una riforma fiscale mirata, di incentivare tutta una serie di attività che possono essere fatte sui territori. Bisogna ripartire e per ripartire bisogna fare delle riforme tali da garantire lo sviluppo di determinate aree, anche con una logica di sostenibilità, cioè dobbiamo cominciare a pensare che il fisco non è semplicemente lo strumento che comporta ingresso di tasse e entrate per lo Stato, ma anche un modo per direzionare l'economia. Agevolando determinate iniziative piuttosto che altre si garantisce uno sviluppo specifico sostenibile, quindi dare forza magari a investimenti in strutture che hanno determinate caratteristiche ambientali, sviluppare territori che hanno determinate caratteristiche. Bisogna fare dei piani locali, bisogna dare forza alle amministrazioni locali per disegnare quella che deve essere anche la loro struttura di territorio e supportarli da un punto di vista appunto nazionale. Fare delle riforme sarà possibile se ci sarà un governo forte? Lei mi colpiva le parole che diceva, noi prima di andare al voto abbiamo deciso da che parte stare. Ecco, la configurazione un po' di queste alleanze presunte o vere anche di alcune forze del centro-sinistra, come le legge? Io allora ribadisco quello che le dicevo, è fondamentale in questo momento un voto di responsabilità. Il voto di responsabilità è un voto che consente una grossa maggioranza. Io ciò che contesto nella coalizione centrista capiggiato dal Presidente Monti è proprio quello di mirare non tanto una governabilità quanto una situazione di stabilità e questo sarebbe veramente deleterio per il nostro Paese. Chi oggi si sente di centro, chi oggi pensa di avere una concezione di politica, sì riformista ma moderate, deve valutare bene dove votare. Centro democratico è il centro che vuole governare, non il centro che vuole non stabilità. È chiaro che la coalizione è vasta, c'è un centro e c'è una sinistra e tante critiche ci vengono fatte rispetto all'equilibrio che potremmo avere con il SEL di Vendola. Io dico semplicemente quello che l'onorevole Tabacci ci ha spiegato a tutti noi quando sono storte queste perplessità. Bruno Tabacci è stato assessore al bilancio del Comune di Milano assieme al sindaco Pisapia che sembrava fosse un terrificante estremista perché è un simpatizzante di SEL ma non mi sembra che il tema sia stato così forte. Nello stesso modo, Nichi Vendola è comunque governatore di una delle più grandi e importanti regioni della nostra nazione e che in questi anni è stato capace di essere un grande uomo di governo. Quindi non si deve confondere quelle che sono delle atteggiamenti anche di ricerca di consenso. Oggi Nichi Vendola rappresenta la sinistra e ha bisogno comunque di avere il consenso della sinistra ma è un uomo di governo. Quindi sono assolutamente certa che è questa triade di figure insomma rappresentate da Bersani che comunque il nostro leader da Bruno Tabacci e da Nichi Vendola non avranno problemi nella governabilità. Sono tre persone, non sono le venti liste esistenti nel momento in cui c'era l'Unione. Ma questo avvicinamento che non si sa poi se sia reale a Monti, come lo legge? Ma io credo che con Monti si dovrà parlare, soprattutto con i momenti in cui si dovranno mettere in piedi grandi riforme. Però la coalizione di centro-sinistra è questa e il centro è centro democratico e Bruno Tabacci. Chi pensa che ci sia bisogno di un centro che governi lì deve guardare, a mio avviso. E credo che noi possa trovare tutta la serietà di un progetto che ha un suo senso già costruito fin di partenza. Non credo che l'esperienza Monti sia un'esperienza che abbia un valore così forte e così positivo. Andando ancora sui temi, per esempio sul sociale, anche il supporto alle famiglie, a chi non ha lavoro oggi e anche alla luce della fede che stiamo vivendo, quali sono le vostre dime? Assolutamente fondamentali. Leggendo il programma si può capire chiaramente come il nostro welfare a sostegno delle persone più deboli, a sostegno delle famiglie, a sostegno delle donne, a sostegno dei giovani, sia veramente molto importante. Bisogna rimodulare tutto quello che è stato fatto fino adesso per dare effettivo vantaggio a queste persone che sono in difficoltà. Credo che anche Bruno Tabaci, che è sempre stato un uomo di centro e tuttora si ritiene un uomo di centro, nel momento in cui con noi ha elaborato questo progetto abbia capito che c'è un cambio nella società e la sua attenzione, la nostra attenzione debba essere portata assolutamente più nei confronti di queste persone. Quindi ribadisco, la riforma fiscale deve servire anche in questo caso ad agevolare il lavoro per le fasce più deboli. bisogna ridare nuove formule di sostegno al lavoro, formule di sostegno alla disoccupazione, bisogna ripensare a meccanismi che garantiscano la sopravvivenza onesta, seria alle persone e che rimettano in moto un senso di fiducia nel futuro che è fondamentale. Quindi ci sono tante idee che sono state espresse, che noi stiamo portando avanti, che chiaramente possono fare parte soltanto di un grande meccanismo. Inutile continuare a fare dei piccoli sistemazioni da una parte all'altra che in realtà è come quando la coperta è troppo corta. Aggiungi da una parte e togli dall'altra. Bisogna prendere in mano il sistema complessivamente e cercare di riequilibrarlo a favore delle fasce più deboli. Prendendo in considerazione una patrimoniale, cercando di tassare le rendite più che il lavoro, le rendite sia immobiliari che finanziarie a determinati livelli e liberando invece i redditi più bassi di tutte quelle che sono delle tasse che oggi non sono più sostenibili, comprese delle riduzioni sensibili sul discorso dell'IMU, sulla prima casa, nel momento in cui si fa riferimento delle reddite molto basse. Si parla anche rispetto, almeno soprattutto è stato al centro anche del governo Monti, il tema del riordino istituzionale. Quindi come il riordino anche in termini di provincia, in termini di accorpamenti potesse portare anche ad una diminuzione della spesa. Quindi il grande tema della spending review ma in realtà anche questo tema del riordino istituzionale. Per noi è fondamentale, dal nostro programma chi lo leggerà potrà vedere. Non soltanto noi riteniamo che il discorso delle province oggi debba essere un tema superato. Oggi purtroppo i diversi livelli istituzionali di distribuzione dei compiti all'interno delle istituzioni è sovradimensionato. Noi prevediamo innanzitutto un accorpamento tra unioni di servizi e unioni vere e proprie dei piccoli comuni. Prevediamo un annullamento con delle riforme costituzionali delle province ma anche la costituzione di macro regioni. Cioè riteniamo che anche la dimensione regionale oggi, quella esistente, debba essere in un qualche modo superata perché stiamo facendo parte di un mondo vasto. Noi dobbiamo essere parte di un'Europa che noi vogliamo federale a tutti gli effetti. L'Italia non ha nessun valore se non riesce a far parte di un'Europa realmente politica e quindi non soltanto un'unione monetaria di fatto ma una vera Europa federale e la nostra dimensione deve assolutamente cambiare. Purtroppo tanti dei problemi che abbiamo sono legati ai troppi costi della politica anche legata a tutta questa ripetizione all'interno delle istituzioni. Ecco quindi anche il tema delle risorse perché poi è un tema su cui si va sempre a parare. Oggi il pubblico soprattutto, perché comunque abbiamo detto delle strategie con cui rilanciare l'economia, però il pubblico dove deve andare a dragare le risorse anche per dare i servizi che comunque... Allora è chiaro che ci sono due temi. Innanzitutto una riduzione della spesa e questo è fondamentale con logica di spending review ma non generalizzata come poi è stato fatto anche dal governo Meunti pur avendo attivato questa iniziativa ma cercando di mirare di più all'interno dei capitoli di spesa verso quelle che sono le reali spese inutili che possono essere tagliate e invece andando a salvaguardare tutte quelle spese legate alla scuola, all'istituzione che non possiamo assolutamente trascurare. Invece la scuola dobbiamo finanziarla e finanziarla pesantemente. Il lavoro, la sanità, però una sanità giustamente, un servizio sanitario giustamente distribuito sulla base della possibilità delle singole persone. Quindi si devono andare a ridurre le spese dove le persone possono pagarsi determinati servizi anche con la determinazione di specifici ISEE quindi calcolo appunto del potere di ogni singola famiglia invece cercando di salvaguardare determinate spese a favore dei meno abbienti. Quali sono le spese inutili? Taglia le spese inutili soprattutto a che cosa? Ma ci sono tantissime disfunzioni a livello statale. Ci sono costi che sono legati all'incapacità di una macchina statale di gestire, di essere gestita. Ci sono stesse cose che a livello costano una cifra a Bologna e costano quattro volte se comprate in Calabria piuttosto che in Sicilia. Cioè ci sono una serie di attività che sono legate oppure alla meccanizzazione. Cioè abbiamo uno Stato che ancora ha una capacità di gestione che è ancora post bellica. Cioè oggi ci sono dei sistemi tali per cui potremmo fare le stesse cose con molta più velocità e spendendo molto meno. È chiaro, sono riforme sostanziali che impongono la volontà veramente di cambiare e impongono maggioranze forti e voglia di coalizioni su temi molto determinate. Differentemente continuiamo a mettere toppe su toppe su toppe un sistema e non andremo da nessuna parte. Ma non voglio dimenticarmi di parlare dell'evasione fiscale. Cioè una cosa sulla quale noi puntiamo tantissimo è controllo sull'evasione, il recupero di tanto del lavoro sommerso che non è tassato. Perché se noi andiamo di fatto a garantire maggiori entrate su questi redditi che sono sconosciuti al fisco, possiamo automaticamente creare dei fondi in grado di ridurre la tassazione fiscale per tutti invece i redditi più bassi che oggi invece sono caricati di tantissime tasse, dirette e indirette. Quindi lotta all'evasione fiscale per noi è una delle priorità fondamentali. Ecco proprio un minuto invece, visto che hai fatto questo viaggio oggi dall'Appennino alla Riviera sperando di farlo anche poi domani verso Roma, le infrastrutture, visto anche che l'Emilia Romagna è un nodo centrale per tante cose. Ma sicuramente, allora, comunque siamo dei privilegiati, no? Adesso noi abbiamo, ci lamentiamo giustamente, perché insomma abbiamo, ma se uno gira un po' l'Italia si rende conto comunque che l'Emilia Romagna è una regione che è comunque una regione fortunata. È chiaro che le infrastrutture devono ripartire e ci devono essere degli investimenti molto forti, cosa che invece in questi anni sono stati completamente bloccati. Cioè si è puntato a riequilibrare i bilanci bloccando gli investimenti in infrastruttura, cosa che invece dovrà assolutamente essere, non potrà più essere così, insomma. E' quindi assolutamente fondamentale. Bisognerà, da questo punto di vista, valutare anche eventuali negoziazioni con la nostra Europa, perché in un qualche modo ci sono dei parametri molto svingenti che ci sono stati posti a determinate condizioni, ma dobbiamo anche continuare a dimostrare che in una situazione come quella attuale, di recessione, in cui non si riesce a ripartire, se da qualche parte non si innesca un meccanismo virtuoso che permetta all'economia di partire, difficilmente ce la faremo. Abbiamo un ultimo minuto. Prima dell'appello al voto, che chiediamo a tutti i nostri candidati, anche una domanda. Nel senso, lei è della provincia di Bologna, noi veniamo ascoltati nel territorio riminese, o comunque in quello un po' più ampio della Romagna. Sa che poi ci sono sempre queste diatribe tra Emiliano e Romagnoli. Nel momento in cui rappresenterà, come insomma le auguriamo per la sua campagna elettorale, dovesse rappresentare l'Emilia Romagna, in che modo si farà anche portatrice dei valori e dei problemi della nostra Romagna? Innanzitutto il Centro Democratico non è Elena Torri, anche se Elena Torri avrà la possibilità, e speriamo, incrocio le dita, di rappresentare questo movimento all'interno del Parlamento italiano. Noi abbiamo dei referenti su tutti i territori, dei candidati su tutti i territori, che stanno esprimendo le loro idee, le loro problematiche. La nostra intenzione è quella di fare un movimento serio, con ramificazioni, e quindi saremo testimoni delle esigenze che ci saranno. È chiaro, ci saranno persone che avranno un'idea, che porteranno avanti un'idea, e noi saremo i promotori, insomma. Però l'Emilia Romagna, è chiaro, un parlamentare per l'intera regione si dovrà fare carico di tutti i problemi della regione, ma io se ce la faccio ci sarò, garantisco. E allora l'appello al voto in questi ultimi 30 secondi? L'appello al voto è un voto responsabile. Il Centro Democratico credo che sia un voto responsabile per chi pensa di avere una cultura di centro, ma sa che questo paese deve essere governato e vuole una maggioranza certa fin da subito. Credo che possa essere il voto anche per chi magari è anche di sinistra, magari anche in passato ha votato il Partito Democratico, ma in questo contesto si sente a disagio per alcune problematiche. E può individuare in Centro Democratico il partito che dà comunque forza al centro-sinistra e a Pierluigi Bersani, ma nello stesso tempo si identifica in un modo diverso. Quindi Centro Democratico è un voto di responsabilità. Non diamo voti, che possono sembrare anche voti di opinione, ma che possono essere voti persi per una maggioranza che invece oggi è fondamentale. Allora noi ringraziamo i allenatori del Centro Democratico per essere stata con noi. Bocca al lupo e buona campagna elettorale. Buona campagna elettorale e grazie ancora. Grazie a voi. E noi ci ritroviamo tra pochi istanti perché già lo vedo far capolino nei nostri studi. È arrivato anche il candidato terzo alla Camera per Fratelli d'Italia, Gio Enzo Renzi, quindi rimanete con noi.